L'omicidio di Emanuele caccia i responsabili. L'assassinio del quindicenne colpito alla schiena in una sparatoria a Napoli. Notte di interrogatori in questura. Si cerca il colpevole. In arrivo più telecamere dalle istituzioni appello ai ragazzi a rifiutare le logiche camorristiche. Catturato narcos del clan, era il broker dei casalese, arrestato in Colombia Luigi Belvedere, condannato in via definitiva per traffico internazionale di cocaina. Ricercato dal 2020, era nell'elenco dei latitanti più pericolosi. Si era fatto fotografare sulla tumba di Pablo Escobar. Avellino, intercettazioni ok, festa verso il processo. Gli sviluppi nell'inchiesta Dolce Vita, dalla Cassazione Via Libera all'utilizzo delle registrazioni telefoniche, l'avvocato dell'ex sindaco Luigi Petrillo chiarisce cadute gran parte delle accuse. Festa non poteva essere arrestato. Giffoni, bufera sul festival, contestato danno erariale, l'evento cinematografico dedicato ai ragazzi nel merino della Corte dei Conti e della Guardia di Finanza. Invito a dedurre per il patron gubitosi e altre tre persone sotto la lente della magistratura contabile, spese per mezzo milione. Giovani e digitalizzazione, la sfida parte dal sagno. Le aree interne si confermano una vera eccellenza per le start-up e quanto ha sottolineato l'assessore regionale alla ricerca Valeria Fascione, che ha fatto tappa a Benevento per l'evento conclusivo dedicato alle nuove imprese. E questi erano i nostri titoli. Buon pomeriggio, ben trovati con l'informazione regionale di Otto Channel. Andiamo subito a Napoli. In apertura è stata una notte di interrogatori nella questura di Via Medina. Si cerca ancora di individuare l'omicida del giovane Emanuele Tufano, 15 anni, ucciso durante una sparatoria al rettifilo. Questa notte ha ascoltato e poi rilasciato un coetaneo della vittima. Sentiamo. È stato interrogato per diverse ore e poi rilasciato un ragazzo di 15 anni che, secondo la polizia di Napoli, potrebbe aver partecipato alla sparatoria in corso Umberto, culminata con la morte di Emanuele Tufano. Anche lui aveva 15 anni, originario del rione Sanità, di mattina frequentava la scuola e nel pomeriggio lavorava come apprendista meccanico. Fatale un proiettile che l'ha centrato alla schiena, mentre provava a scappare dall'agguato insieme ad altri due amici. Il sospetto degli investigatori è che Emanuele sia rimasto vittima di una guerra tra bande rivali che si contendono l'area pedonale di Piazza Mercato. Il sospettato minorenne è stato individuato dalle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi della zona. Il 15enne è già noto alle forze di polizia per il coinvolgimento in una aggressione ad un cittadino bengalese da cui però è stato scagionato. Gli occhi elettronici, in particolare quelli che puntano alla chiesa di Santa Maria alla Scala, potrebbero fornire indicazioni decisive agli inquirenti che hanno raccolto anche le testimonianze di altri ragazzini che hanno assistito al raid armato. In corso Umberto gli agenti hanno trovato quasi una ventina di bossoli esplosi da più armi. Si punta ad individuare le mani che hanno premuto il grilletto uccidendo Emanuele. E da un lato si chiedono più telecamere per garantire la sicurezza in città, dall'altro anche una maggiore attenzione per i giovani. Sentiamo. Napoli ancora scossa per l'omicidio del 15enne Emanuele Tufano dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza tenutosi in queste ore in prefettura è emerso come sia necessario alzare la soglia dell'attenzione. Riempiamo la città di telecamere, la richiesta del procuratore Nicola Gratteri, un provvedimento già annunciato dal sindaco Manfredi. Stiamo facendo un grande investimento sulle telecamere, sia sulla manutenzione che sulle prossime 350 telecamere che metteremo in città nel giro di pochi mesi. Ma chiaramente c'è anche un problema di controllo del territorio durante la notte che richiede una organizzazione logistica specifica. Il prefetto Michele Di Bari si è rivolto invece alla comunità. Un appello alla città che significa questo. Noi abbiamo a che fare con ragazzi la cui età diminuisce giorno dopo giorno e questo interpella tutti. C'è una grande coralità istituzionale. Oggi tutti hanno cercato di affermare che c'è bisogno di una risposta sociale. Per l'assessore regionale Fortini, ospite dell'inaugurazione dell'anno scolastico a liceo Severi di Salerno, bisogna intervenire con azioni concrete sulle nuove generazioni. Quando dei ragazzini che in qualche maniera appartengono a contesti tra virgolette normali impugnano delle armi, questi ragazzi in realtà non hanno più come modello né la famiglia d'appartenenza né la scuola. Un'idea che era emersa è di pensare a una settimana di confronto in ogni scuola. E ancora cronaca. Un altro narcos della droga è stato arrestato in Sud America. Polizia ed Europol l'hanno catturato a Medellin. Luigi Belvedere è considerato l'intermediario tra i cartelli colombiani e i casalesi. Ricercato dal dicembre del 2020, inserito nell'elenco dei latitanti più pericolosi del Ministero dell'Interno e condannato in via definitiva per traffico internazionale di stupefacenti a 8 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione. Sulle tracce di Belvedere gli investigatori italiani e colombiani. Di lui si ha una foto che lo ritraeva sulla tomba del noto narcotrafficante Pablo Escobar. L'inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Napoli e condotta dalla squadra mobile di Caserta. La cattura del pericoloso narcotrafficante è una grande vittoria dello Stato e un duro colpo alla criminalità. Le più vive congratulazioni a Gratteri e agli investigatori. Questo è il commento del sottosegretario alla giustizia. Andrea Del Mastro. È una violenta rissa. Nella serata di ieri ha creato momenti di panico nel centro storico a Benevento. Quattro le persone ferite e trasportate in ospedale. Una quinta invece è stata medicata sul posto dai sanitari del 118 a corsi al pari di numerose pattuglie e volanti di carabinieri e polizia. L'episodio all'interno di un circolo dove era in corso una festa e dove all'improvviso hanno fatto irruzione alcuni giovani stranieri. Sul grave episodio sono in corso le indagini dei carabinieri. Protestano invece i residenti perché dicono che il centro storico di Benevento ormai è diventato invivibile. Andiamo a Caserta. Dopo le perquisizioni di ieri, ordinate dalla Procura di Santa Maria Capoavetere Giorgio Magliocca. Questa mattina ha annunciato le proprie dimissioni da sindaco di Pignataro Maggiore e da presidente della provincia di Caserta. Sentiamo. Non posso che prendere la decisione di dimettermi dalla carica di sindaco e di presidente della provincia. Così questa mattina il presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca e primo cittadino di Pignataro Maggiore ha annunciato le dimissioni da entrambe le cariche. A seguito della perquisizione subita ieri, nell'ambito di un'indagine portata avanti dalla Procura di Santa Maria Capoavetere, che sarebbe relativa ad alcune sponsorizzazioni veicolate ad una squadra di calcio casertana. Sento la necessità, ha poi rimarcato Magliocca, di condividere la decisione assunta e lo stato d'animo che io e la mia famiglia stiamo attraversando in queste ore. Le attività investigative di ieri hanno di nuovo riportato alla mia mente e a quella dei miei familiari, le vicende del 2011, quando ho subito per 11 mesi una ingiusta detenzione. E di fronte alla responsabilità di genitore che ho, in modo particolare quella di garantire la serenità ai miei giovani figli e a tutti i miei familiari, non posso che prendere la decisione di dimettermi dalla carica di sindaco e di presidente della provincia. Questa è la decisione del presidente della provincia, Giorgio Magliocca, in merito all'indagine condotta dalla Procura di Santa Maria Capoavetere sull'affidamento di un appalto in cambio di una sponsorizzazione ad una squadra di calcio. Inchiesta che chiama in causa anche altre persone, tra queste un costruttore e un militare. Ad Avellino adesso crolla il castello accusatorio nei confronti di Gianluca Festa. Resta in piedi la vicenda intercettazioni. È fiducioso l'avvocato difensore dell'ex sindaco di Avellino dopo le motivazioni della Cassazione. Sentiamo. Una cosa certa è che le ordinanze sono illegittime e quindi Festa non doveva essere arrestato. Abbiamo ribaltato il risultato del primo tempo, ora fiduciosi verso i prossimi passi. È soddisfatto l'avvocato difensore dell'ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, Luigi Petrillo, dopo aver conosciuto le motivazioni delle due sentenze della Corte di Cassazione che hanno fatto cadere gran parte delle accuse nei confronti del suo assistito. Se fossimo in una partita di calcio e se ci fronteggiassimo tra squadre, io direi che gli esiti di queste due sentenze sono assolutamente favorevoli per la difesa di Festa. Hanno depotenziato quelle più gravi, mi riferisco al depistaggio e alle corruzioni. Adesso siamo in una condizione, non dico di poter gestire al meglio la partita, ma siamo nella condizione di fronteggiare le accuse della Procura con molti assi a disposizione. Poi Petrillo chiarisce anche sulle intercettazioni e sull'inammissibilità dei motivi dei ricorsi presentati dai legali di Festa. Noi abbiamo denunciato l'illegittimità delle intercettazioni. La Corte di Cassazione non si è pronunciata su questa nostra denuncia perché ha ritenuto che non potesse entrare nel merito delle singole intercettazioni perché si tratta di una valutazione di merito. Quindi di fatto ci lascia liberi di ripresentare gli stessi motivi di denuncia al giudice del merito che seguirà. Torniamo a Napoli. Chiara Iaconis, un ulivo alla Fondazione Focus dei quartieri spagnoli per ricordare la turista uccisa a Napoli da un oggetto caduto da un fabbricato. Vediamo. Dopo il murale ai quartieri spagnoli da oggi anche un albero di ulivo testimonierà il ricordo di Chiara Iaconis a Napoli in memoria della giovane turista padovana che durante una passeggiata è stata colpita da un oggetto caduto dall'alto di un fabbricato ed è morta. Questa mattina è stato piantumato un giovane albero di ulivo all'interno dei giardini della Fondazione Focus, proprio accanto alle giustrine per i bambini. Un gesto simbolico a cui hanno partecipato anche gli amici della famiglia Iaconis. Gli amici di famiglia e le amiche di Chiara hanno chiesto, hanno chiamato la Fondazione dicendo che avrebbero voluto piantare qui un ulivo per ricordare nel tempo questo fatto tragico e mantenere di Chiara ancora una memoria qui ai quartieri spagnoli, memoria che i bambini, di cui i bambini si prenderanno cura attraverso questo ulivo che ora viene piantumato nel centro della Fondazione Focus ai quartieri spagnoli. Ha un significato molto importante, in realtà è un gesto semplice, però per i bambini noi vogliamo parlare soprattutto ai bambini perché il significato alla morte di Chiara che in realtà è una morte senza senso. Ecco, il significato può essere dato esclusivamente dai bambini attraverso proprio un dono che stamattina riceveranno che è quello di un albero di olivo. Loro dovranno naturalmente prendersene cura, farlo crescere sano e robusto e soprattutto rispettarlo, quindi rispettarlo come si rispetta qualunque vita, la vita vegetale, la vita animale e la vita umana. Andiamo nel Salernitano. Il Giffoni Film Festival finisce sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti. La Guardia di Finanza di Napoli ha infatti notificato un invito a dedurre da quasi 500 mila euro al lente autonomo Giffoni Experience. Per la procura regionale sarebbero stati utilizzati indebitamente finanziamenti pubblici di fonte comunitaria e gestiti dalla regione Campania per l'esecuzione del servizio di movimentazione di ospiti e giurati nelle edizioni del Festival che vanno dal 2016 al 2022. Il provvedimento riguarda Pietro Rinaldi, presidente protempore, Claudio Gubitosi, direttore artistico, Maria Pia Montuori, responsabile dell'ufficio ospitalità e Vincenzo Barletta, responsabile unico del procedimento relativo all'affidamento del servizio movimentazione ospiti e giurati. Per gli investigatori il servizio trasporti sarebbe stato affidato ad una ditta che non disponeva né di un parco mezzi né di un numero adeguato di dipendenti per gestirlo. In alcune edizioni, inoltre, le auto sarebbero state fornite gratuitamente da sponsor e non dalla ditta affidataria che avrebbe fornito invece solo gli autisti. Andiamo a Benevento adesso. Giovani, digitali e attenti alla sostenibilità. Le start-up sono una vera eccellenza per le aree interne, come ha evidenziato anche l'assessore regionale alla ricerca Valeria Fascione, che oggi è stato nel capoluogo Sannita. Vediamo. Digitale, start-up, innovazione sono i punti forti dell'economia sannita e delle aree interne, con dati importantissimi che emergono anche dalla finale di Start-up Campania, che si è tenuta all'auditorium San Vittorino di Benevento, alla presenza dell'assessore regionale alla ricerca, all'innovazione e alle start-up Valeria Fascione. Ormai in Campania l'innovazione è diffusa. Se andiamo a vedere, in alcune province sono più nelle aree interne che non magari nelle grandi città. Anche nuove quote di mercato con il digital export si possono avere, anche qui, proprio in questi territori abbiamo delle esperienze molto belle. Un evento che ha visto protagonista Marco Consales, docente Unisannio e direttore Start-up Campania. L'innovazione e la ricerca scientifica in generale sono fondamentali perché cambiano in meglio ovviamente la nostra vita, cambiano la qualità della vita e la Start-up Campania ha proprio questo come valore aggiunto e come obiettivo, che è quello di valorizzare i risultati della ricerca scientifica. E per il rettore di Unisannio Canfora la ricetta che vede assieme le università, le istituzioni e i giovani del territorio è sempre virtuosa. Noi siamo in un momento di grande cambiamento dell'economia, di un grande cambiamento del mondo del lavoro e i cambiamenti possono diventare minacce o opportunità. Se ci mettiamo passione e competenza possiamo trasformare i cambiamenti in opportunità. Quando si lavora nella stessa direzione uno più uno non fa due ma fa molto di più. Il miglio della memoria, il protocollo proposto dalla soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, sottoscritto questa mattina con l'obiettivo di coinvolgere 18 istituzioni culturali pubbliche e private del Centro Antico. Andiamo a vedere. Oltre 2 milioni di volumi e 120 chilometri lineari di documenti d'archivio conservati nell'area delimitata dai tre decumani del Centro Antico di Napoli. Si chiama il miglio della memoria, l'accordo proposto dalla soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania che coinvolge 18 istituzioni culturali pubbliche e private per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. È un itinerario culturale che mette insieme 18 istituzioni, biblioteche e archivi del Centro Antico di Napoli. Creiamo una biblioteca e un archivio diffuso che passa attraverso la valorizzazione non solo del contenuto ma anche di questi straordinari contenitori. Questi archivi e biblioteche, oltre a possedere un patrimonio immenso, sono delle strutture architettoniche fantastiche. La sottoscrizione del protocollo presso il complesso di Santa Maria del Purgatorio ad Arco. Si dà la possibilità di tirar fuori dai nostri archivi tutte le belle cose che noi conserviamo. Purtroppo, ma duverosamente, li abbiamo conservati tenendoli segregati per la loro preziosità, ma oggi dobbiamo tirarli fuori, metterli insieme e farli volare nel mondo della cultura. Il sindaco Manfredi ha messo in evidenza l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato. Abbiamo un patrimonio archivistico straordinario, metterlo in rete ma soprattutto metterlo a disposizione dei napoletani e dei turisti rappresenta un passo in avanti molto importante per rafforzare non solo la memoria della nostra città, ma il presente e il futuro. Restiamo a Napoli. Questa mattina ha preso il via la 35esima edizione di Tutto Sposi, evento che proseguirà fino a lunedì 28 ottobre con sfilate ed esposizioni dedicate al mondo del wedding. Per noi c'è Imma tedesco. 150 espositori, 4 giorni di eventi per la 35esima edizione di Tutto Sposi, la fiera internazionale dedicata al mondo del wedding che ha preso il via questa mattina alla mostra d'Oltremare a Napoli. Nel pomeriggio l'atteso taglio del nastro e poi spazio alle sfilate. L'attesa sta ormai per finire, questo pomeriggio ci sarà l'inaugurazione e poi spazio alle sfilate. Ciro Florio è il truccatore ufficiale delle sfilate. Oggi pomeriggio ci saranno tre sfilate eccezionali. Vi aspetto qui a Tutto Sposi. In questi quattro giorni l'occasione anche per partecipare alle dimostrazioni di make-up e anche dei veri e propri workshop. Sì, qui nel nostro stand ci saranno prove per le spose, domenica pomeriggio ci sarà un format sposa e mamma con la prova e vi aspetto. Siamo qui alla fiera perché pettineremo tutte le modelle di queste sfilate e faremo anche tante altre cose. Qual è il look ideale per la sposa di oggi? Per la sposa di oggi, in questo periodo soprattutto nel 2025, si portano tante acconciature molto morbide soprattutto perché le modelle e soprattutto le spose eccetera vogliono stare comode e si porteranno delle acconciature molto morbide tipo come tuppi, code, tricce. Evento che proseguirà con una ricca programmazione fino a lunedì 28 ottobre. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale in regia Aldo Fenizia, grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.